Nel chisale chi scende della settimana la vetrina è tutta per il portiere dell'Orvietana Manricchi, almeno otto le parate decisive nell'incontro giocato a Città di Castello. L'estremo difensore della squadra allenata da Tamba a Fiorucci si è superato in un colpo di testa di Doratiotto, per lui una giornata di autentica grazia calcistica. Nel podio va sicuramente Benedetti, la rete che ha deciso le sorti della partita tra Seravezza e San Giovannese e la sintesi perfetta del vero attaccante di area di rigore. Il terzo gradino spetta Diop del Tau, ha toccato cinque palloni, un gol e mezzo, messi a segno a conferma che le credenziali che lo hanno accompagnato non erano certo campate in aria. Nella lista dei cattivi va l'attaccante del Rezzo, Pattarello, che si conquista il carbone della settimana. Impossibile sbagliare occasioni in questa maniera e alla fine questi errori hanno un enorme peso specifico. L'allenatore della settimana invece è Max Bolura, quarta vittoria consecutiva del Follonica-Gavorrano e pensare che un mese fa venne apertamente contestato. È un caso che i maremani stiano volando da quando si sono chiariti nella stanza dei bottoni?